La panza palla a piedi è affrontato da un avversario in evita l'intervento con un buon passaggio a Mussi, entra in area Mussi e poi c'è il tiro e il golle di Roberto Baggio, santo Dio era ora, era ora, Roberto Baggio è il passaggio di Mussi, era ora. Mussi ha recensito a due ritorni in copertura dei difettori nigeriani e ha servito con un grosso a rientrare appena ferma, Roberto Baggio, che con un impatto analogo a quello di Rivera nel 70, in Germania, Italia 3A4, ha messo palla nell'angolo basso alla destra di un portiere che fa, questa volta per l'estremo difettore nigeriano non c'è stato niente da fare.